Instagrammini, eccoci qui! Siamo sulla strada del ritorno, quindi dopo le due spiagge, una l'isola dei pirati, l'altra Balos, siamo alla fine. Ma naturalmente non potevo non provare un'altra novità, un altro gelato che da noi in Italia non c'è, ovvero questo Nirvana, che lo produce sempre la Nestlé, come potete ben notare, ed è un gelato con praline e crema, io credo che sia tipo caramello o qualcosa del genere. Allora proviamo ad aprirlo. Mmm, che profumino! Eccolo qua, il nostro Nirvana. Purtroppo con una sola mano è un po' difficile, cioè, con due mani è un po' difficile. Scusateci, scusatemi il tagamino. Eccolo qua. Allora, proviamo il nostro Nirvana. C'è anche un pelo. Vabbè, sarà volato, diciamo così. Mmm. Sa di crema con pezzettini di biscotto. Davvero molto, molto buono. Nirvana. Un bacio a tutti. Il vostro Gheettano Donati con Hashtag Minion Food di Gheettano Donati. Ciao.